Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa, c'è che ha messo nei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire, del tempo ne rimane più. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà la trasformazione. E tutti quanti, siamo già aspettati. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare, mentre i soldi già lo fanno. E si farà l'amore ognuno come gli va. E anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico? E come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 vedi caro amico. Cosa ti deve inventare? Per poter riderci sopra. Per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse un istante. Vedi amico mio, come diventa importante. che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando, tra un anno passerà. E questa è la novità. Ok. Puoi continuare a farvi sì, sì, ma... ... ... ... ... buongiorno ok ci sono ok si no ma non sento la base non sento nessuna base ma ce l'abbiamo già finito qui stiamo già andando via tutti ma porca miseria lo sapevo che non dovevo venire con la Ferrari di Vettel grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.